Ciao ragazzi, bentornati in questoissimo video Oggi siamo ritornati sulla serie di Minecraft E per questa serie qua, questo ritorno della serie Vorrei subito che lasciate subito 5 mi piace per il prossimo episodio E intanto volevo soltanto dirvi che dovete commentare nei commenti per essere salutati Come è scritto nel link in descrizione Che c'è scritto hashtag saluto un hashtag fatto Che sta ritornando piano piano questo hashtag nel canale Ho detto anche nello scorso video che vi portavo tutte le serie E le sto riportando piano piano Intanto sto giocando col controller E se vi chiedete perché non so giocare c'è un motivo È la seconda volta che sto cercando di registrare Però lasciamo stare Allora, decreiamo un nuovo mondo E vediamo dove siamo Intanto vi devo impararmi i tasti E dopo quando se mi vedete non sapere combattere contro un mob È perché non gioco Come non gioco con un troll Però c'avevo voglia Quindi, eh Capito Dai porco Dopo ci saranno molti tagli in questi video qua Quindi ci metterò tanto 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 a fare questi video qua Ve li dico già E dopo se riusciranno un po' di tardi video Perché forse occupano troppo Quindi ci mette di più a caricarli Dopo un metodo per caricare più veloce Quindi Perfetto Spacchiamo questi alberi qua Dopo aver spaccato questo albero Qua ci vediamo dopo Quindi Tra un bel po' I just like the sound Faremo Il air Il air Il air Il air Il air Il air Grazie a tutti 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 Vai così Ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti